Allora sono arrivata al punto dove devo unire questo petalo al cerchio centrale quindi ricapitoliamo io ho fatto 1 2 3 4 5 6 elementi senza picco questi due con picco che serviranno per unire il prossimo petale che li possiamo vedere qui e adesso li facciamo unire questo elemento al cerchio centrale quindi cosa faccio io faccio come abbiamo fatto prima ho fatto 3 catenelle faccio la mia prima maglia altissima faccio 3 catenelle e faccio picco 3 catenelle picco faccio 2 male altissime 1 e 2 faccio una catenella che cerco la parte sarebbe questa a quale devo unire come vi ho detto prima filo davanti entro qui ripesco il mio filo e lo porto in avanti che faccio una maglia bassa una catenella una catenella e faccio la seconda metà del mio elemento quindi come abbiamo fatto sempre non c'è niente di nuovo e niente di difficile una male altissima picco di 3 catenelle che ripetiamo male altissime altra maglia altissima sempre sotto 3 catenelle 1 2 3 cerchiamo la catenella in mezzo entriamo facciamo una maglia bassa 3 catenella 3 catenella 3 quindi 3 catenelle una maglia altissima picco 1 2 3 picco altre due mali altissime tutto come abbiamo fatto prima mettiamo via questi file che una catenella adesso raddrizzo il mio lavoro allora è questa parte noi dobbiamo unire qui e facciamo nostra unione filo davanti con uncinetto da sopra entro ripesco il filo lo porto in avanti così maglia bassa che e ripetiamo il nostro lavoro faccio la metà del mio petalo 3 catenelle ma faccio vedere adesso che quel filo impediscono un po allora una male alta picco di 3 catenelle 1 2 3 picco fatto altre due maglie altissime 1 è un'altra 2 gettate che abbiamo terminato adesso 3 catenelle 1 2 3 cerchiamo la catenella in mezzo facciamo una maglia bassa andiamola bene una maglia bassa che 3 catenelle 1 2 3 e chiudiamo il nostro lavoro entrando qua in questo punto dove abbiamo fatto il picco e tiriamo con una maglia bassissima che facciamo un'altra maglia e possiamo tagliare il filo i successivi e così si presenta lavoro i successivi tre elementi vengono uniti nella stessa maniera come abbiamo fatto con questo elemento quindi partiamo da qui uniamo due facciamo 6 archette 2 con picco e con ultime due le uniamo e per fare ultimo come unire ultimo elemento ci rivedremo e ve lo faccio vedere ok io sono arrivato al punto dove devo unire ultimo elemento quindi abbiamo unito da soli questi tre e per unire questo abbiamo fatto certamente la base senza ultimo giro e facendo ultimo giro uniamo alle altre petale quindi cosa dobbiamo fare unire qui come abbiamo unito sempre fare 6 archette normale senza picco con altre due archette con picco uniamo qui e ultime due le uniamo qui e allora siamo pronti quindi che faccio come sono arrivata con molli bassissime al centro del mio archetto e faccio come abbiamo sempre fatto 4 catenelle 1 2 3 e 4 fatto 3 catenelle per picco un 1 2 3 e faccio picco sempre lo stesso lavoro come abbiamo fatto sempre allora due gettate faccio una maglia altissima che altre due gettate un'altra maglia altissima ok fatto faccio una catenella avvicino il mio lavoro cerco questo punto questo archetto e faccio come abbiamo fatto sempre metto il filo davanti con uncinetto entro qua dentro ripesco il filo lo porto in avanti che e faccio una maglia bassa e così ho unito il primo petalo quindi faccio una catenella e continuo a fare la seconda parte del mio elemento una maglia altissima 3 catenella picco 2 3 ricordiamo che piccolo prendiamo entrambi parti che altre due mali altissime altre due mali altissime una e un'altra faccio 3 catenelle 1 2 3 cerco come abbiamo fatto sempre la seconda catenella questa centrale entro qua dentro facendo come abbiamo fatto una maglia bassa altre 3 catenelle 3 e faccio il secondo elemento secondo elemento io unisco al secondo elemento qui qua a mezzo faccio lo stesso lavoro come ho fatto prima e come abbiamo fatto fino adesso qui unendo altre petale poi faccio sei archetti senza picco sempre uguale come abbiamo fatto e poi ci rivedremo ecco ecco io ho unito qua insieme a voi ho fatto sei petali senza picco e adesso dobbiamo fare unione quindi unione è la stessa cosa come abbiamo fatto fino adesso quindi credo che potete fare anche da sole che io faccio un elemento con picco unisco qui dentro poi questo questa parte qui unisco unisco a questa parte qui e poi ultime due che sarebbero queste io li unisco a questa parte centrale sempre lavoro come abbiamo fatto unendo tutti altri petali e quindi credo che non c'è niente di difficile e spaventoso unite voi da sole e noi ci rivedremo a bordare il nostro centrino io ho unito tutti i petali e il lavoro si presenta in questa maniera il passo successivo che dobbiamo fare è bordare tutto il nostro centro il giro è molto semplice allora guardiamo torniamo al nostro schema e guardiamo bene allora noi ci troviamo adesso in questo giro quindi con un cenetto noi ci agganciamo da qualsiasi petola che scegliamo e facciamo due maglie altissime in ogni maglia di giro sottostante e facciamo tutto questo petolo arriviamo al petolo successivo facciamo 8 catenelle e ci agganciamo adesso vi faccio vedere io con un cenetto sono già agganciata quindi come possiamo vedere questo uno dei petali e ci agganciamo da questa parte dove ci sono sei maglie altissime quindi faccio 4 catenelle che è uguale a una maglia altissima e nello stesso punto faccio un'altra maglia altissima e così vado a lavorare facendo sopra ogni maglia altissima del giro precedente una copia di maglie altissime e vado a lavorare in questa maniera fino a questo punto arrivata a questo punto attenzione che qui non li mettiamo solo sopra maglie altissime arriviamo a questo punto 8 catenelle e ci agganciamo al petolo successivo e facciamo come le ho detto prima una coppia di maglie altissime sopra ogni maglia del giro precedente e poi ci rivedremo ho fatto il primo giro di bordatura volevo prestare vostra attenzione che dobbiamo stare molto attenti e contare che sopra ogni maglia altissima del giro precedente dobbiamo fare una copia quindi qui in ogni blocchetto ogni parte qui dobbiamo avere 12 maglie altissime ok torniamo un attimino allo schema allora noi abbiamo fatto adesso questo giro e ci troviamo a fare questo giro questo giro è molto semplice più semplice del giro precedente quindi noi con maglie bassissime arriviamo alla seconda coppia facciamo 4 catenelle per iniziare che è uguale a una maglia altissima e facciamo sopra ogni maglia altissima del giro precedente noi facciamo una maglia altissima quindi arriviamo alla fine quasi alla fine del nostro petalo e non lavoriamo ultima coppia in quanto noi facciamo 6 catenelle e ci agganciamo alla seconda coppia del petalo successivo quindi adesso vi faccio vedere come io ho fatto ultime 8 catenelle ho tagliato il filo perché adesso il cambio il colore e mi aggancio alla quarta catenella dall'inizio del giro faccio una maglia bassissima e arrivo faccio con un'altra maglia bassissima e noi dobbiamo partire adesso dalla terza quindi entro io cambio il filo voi potete usare il filo anche dello stesso colore quindi io aggancio con un altro colore del filo fatto e faccio i miei 4 catenelle quindi prima seconda terza e quarta che è uguale a una maglia altissima e quindi vado a lavorare facendo una maglia altissima adesso io entro nella quarta qui e faccio una maglia altissima e così vado avanti a lavorare e quindi con maglia altissima io vado a lavorare entrando in ogni maglia altissima di questo petalo fino a quando non arrivo a questo punto quindi io non lavoro ultime 2 maglia altissima faccio 6 catenelle a posto di 8 del giro precedente e con uncinetto entro salto questi due entro nella terza e così andiamo a lavorare tutti i nostri petali facendo solo maglia altissima lasciando ultime 2 da qui partono 6 catenelle e entriamo nella terza del petalo successivo e poi ci rivedremo ho fatto ultime 6 catenelle e ho finito il giro entrando nella quarta catenella dell'inizio del giro adesso come abbiamo fatto in precedenza con mali bassissime io arrivo alla terza catenella e quindi qua siamo già arrivate io qui in questo caso cambio il filo voi potete usare anche a vostro piacere potete anche fare di tenta unita quindi io cambio il filo lo blocco e adesso torniamo a vedere sullo schema quindi noi adesso ci troviamo a fare questo giro abbiamo appena terminato questa e ci troviamo a fare questo questo giro in differenza di giro precedente allora come possiamo vedere facciamo 4 catenelle per iniziare una maglia altissima e una catenella in mezzo e così andiamo avanti a lavorare due maglie altissime e una catenella due maglie altissime una catenella fino a quando arriviamo alla fine del blocco diciamo così e saltiamo come nel giro precedente non lavoriamo ultime due maglie altissime e per unire facciamo quattro catenelle facciamo quattro catenelle quindi torniamo al lavoro e facciamo quattro catenelle per iniziare una due tre quattro che uguale una maglia altissima adesso faccio con un'altra maglia altissima fatto è una catenella e così andiamo a lavorare due maglie altissime e una catenella altissima non alta altissima non alta altissima non alta altissima non alta una due e una catenella e vado avanti a lavorare fino a quando arrivo a questo punto qui io faccio ultima maglia altissima faccio quattro catenelle e mi aggancio con uncinetto nella terza maglia altissima del petalo successivo e poi ci rivedremo alla fine ho terminato questo giro ho fatto ultime quattro catenelle ho chiuso entrando nella quarta catenella dell'inizio del giro e con mali bassissime io sono arrivata alla terza maglia altissima e torniamo a schema a vedere quindi noi ci troviamo adesso abbiamo fatto questo giro e dobbiamo fare questo giro che è questo giro che dobbiamo fare adesso è uguale come al giro che abbiamo fatto prima quindi noi facciamo adesso le nostre 4 catenelle 1 2 3 4 nella catenella successiva nella maglia successiva facciamo un'altra maglia altissima che una catenella in mezzo e andiamo a fare un altro gruppetto da due quindi un'altra maglia altissima altissima non volta faccio male altissima e una catenella in mezzo e così vado a lavorare fino a quando non arrivo qui a questo punto salto ultime due maglie altissime faccio quattro catenelle e con uncinetto entro nella terza male altissima e ripeto lo stesso lavoro quindi il giro uguale di questo giro che abbiamo fatto prima e poi ci rivedremo ho terminato il mio giro con le mali bassissime sono arrivata alla terza maglia altissima e adesso dobbiamo fare il giro successivo e adesso torniamo a vedere sullo schema quindi noi dobbiamo adesso fare questo giro qui questo giro qui noi iniziamo come abbiamo iniziato giri precedenti allora quattro catenelle una maglia altissima e la differenza tra questo giro e quella che dobbiamo fare che qui dobbiamo fare due catenelle in mezzo due mali altissime e due catenelle e così lo lavoriamo fino a alla fine alternando due mali altissime con due catenelle e lavoriamo fino a questo punto e lasciamo liberi ultime due facciamo quattro catenelle e ci agganciamo al blocchetto successivo alla terza male altissima quando terminiamo questo giro il giro successivo sarà uguale a questo quindi questi due giri saranno uguali a questo e adesso le guardiamo quindi ho fatto già quattro catenelle che uguale a una maglia altissima faccio un'altra maglia altissima faccio un'altra maglia altissima chiudo due due e ultime due è fatto faccio due catenelle ok getto due volte il filo e faccio una maglia altissima e faccio una maglia altissima un'altra maglia altissima un'altra maglia altissima fino a questo punto quindi finisco qui lascio liberi questi due quattro catenelle e mi aggancio con uncinetto alla terza male altissima e in questa maniera faccio questo giro e giro successivo e poi ci rivedremo abbiamo fatto questi due giri e ricapitoliamo quindi che due maglie altissime e due catenelle in mezzo come sempre abbiamo fatto quattro catenelle tra i blocchi e abbiamo questo chiuso con la quarta catenella dell'inizio del giro e adesso ci è rimasto a fare ultimo giro ultimo giro qui non si vede tanto bene però come potete vedere qui due maglie altissime una catenella piccò di cinque catenelle e così andiamo avanti a lavorare due maglie altissime una catenella piccò due maglie altissime e per unire due blocchi sempre come abbiamo fatto fino adesso quattro catenelle e ci agganciamo alla terza male altissima adesso ve lo faccio vedere allora io cambio il colore e faccio in bianco sono arrivata con mali bassissime all'inizio ho fatto miei prime quattro catenelle e faccio se l'ho sbagliato e faccio una maglia altissima ok faccio una catenella la tengo con dito faccio altre cinque catenelle una due tre quattro cinque questo è il mio piccò quindi io chiudo il mio piccò entrando nella prima catenella del piccò che stringo e passo subito a fare queste due maglie altissime e così andiamo avanti a lavorare a bordare e fare ultimo giro quindi una maglia altissima un'altra maglia altissima fatto una catenella che questa qui altre cinque catenelle una due tre quattro e cinque chiudo piccò entrando nella prima catenella del piccò se non vi piace il piccò di cinque catenelle potete fare anche tre ma al mio parere questo è più è più bello e vado a fare subito senza catenella vado a fare i miei magli altissimi e così vado avanti a lavorare ok vado avanti a lavorare fino a quando non arrivo al penultimo blocco qui non lavoro questo faccio quattro catenelle per unire e mi aggancio subito alla terza male altissima del secondo blocco e poi ci rivedremo e così si presenta il lavoro terminato come potete vedere il risultato finale adesso vediamo quanto misura il diametro del centrino è 50 cm e spero che questo video è stato chiaro e ci vediamo presto alla prossima ciao ciao ciao